Sposto anche alle domande in diretta delle mamme, degli studenti e degli insegnanti e si è seduta sul famoso Banco Arratelle. Ora, lei non rinnega neanche la storia dei banchi a rotelle perché c'è un tema anche numerico. Io ricordo che Renzi ha detto che sono stati spesi 460 milioni per i banchi a rotelle. Lei poi ha precisato dei 430, mi pare, 450 circa, che ci sono arrivati dalla struttura commissariale per i banchi a rotelle sono stati spesi le sedute innovative, chiamiamole in modo bello, 119 se non sbaglio, giusto? Allora, ma per quale motivo dovrei rinnegare i banchi a rotelle? Perché l'hanno criticata nel suo stesso governo, banalmente per quello. Ma possono criticare quanto vogliono, adesso però spieghiamo una volta per tutte, spero, la questione dei banchi a rotelle. A. I banchi a rotelle, chiamiamoli così, sono 400 mila su 2 milioni e 4. B. Sono costati in totale tutti i banchi, tutti i 2,4 milioni di banchi, 325 milioni, i banchi a rotelle sono costati 119 milioni. C. C. Gli hanno scelti i dirigenti scolastici, che sono persone molto più preparate rispetto a chi ha fatto una becera campagna elettorale sulla scuola. E chi è che ha fatto una becera campagna elettorale sulla scuola? Lo sapete meglio di me. No, lo dica lei, noi siamo ingenui e la panella, siamo un po' biancaneve. Ma è stata fatta una squallida campagna elettorale contro i dirigenti scolastici che quei banchi a rotelle li hanno scelti. Perché li hanno scelti i dirigenti scolastici? Perché il ministro Azzolina, per quanto ami la scuola, non può sapere in 40 mila plessi scolastici di quanti banchi c'era bisogno. Quindi ha chiesto ai diretti interessati quanti banchi volete e perché? Perché il CTS a giugno ci ha detto che se volete riaprire la scuola dovete mantenere il metro di distanza, le strutture che avete sono vecchie, sono vetuste, i banchi sono quelli di 50 anni fa dei vostri nonni, quindi ci vogliono banchi nuovi, singoli. Allora abbiamo chiesto ai dirigenti scolastici, volete la seduta innovativa, volete il banco tradizionale, di che misura lo volete e come lo volete. Quei banchi esistono in Italia dal 2012, li faceva vedere Piero Angelo, andava bene, li propone il governo del Conte 2, non vanno più bene. Si trovano in tutta Europa e sapete? Si trovano anche nelle scuole dei gesuiti, quelle frequentate da Draghi, tanti anni fa. E allora basta con i banchi a rotelle perché finisco, finisco, abbiamo anche ricavato 40.000 aule quest'estate, 40.000 aule significa lavoro alle imprese, modernizzazione degli edifici, abbiamo messo 70.000 personale in più, ATA e docenti in nessun paese d'Europa lo ha fatto, abbiamo messo 3 miliardi sulla scuola e 10 miliardi in un anno. Quando troveranno qualcuno che farà di meglio rispetto a questo, ne riparleremo. Tiziana, tu scegli. Allora, io sono consapevole che c'è anche un orgoglio delle cose fatte e è assolutamente legittimo. Le chiedo, onorevole Azulina, solo perché c'è una difficoltà legata al collegamento, quanto mi piacerebbe oggi essere in studio. Ma ritornerò, ritornerò. Allora, faccio domande brevi e le chiedo risposte brevi. Intanto, adesso ancora un attimo è dell'ultima domanda su questi benedetti banchi a rotelle. Io non ho capito, fu una scelta sua o di Arturi? Fu una scelta, il CTS ci disse che dovevamo avere banchi singoli perché questo favoriva il distanziamento. I banchi singoli sul mercato erano di diverso genere, tutti quelli che l'Italia aveva. E noi abbiamo detto ai dirigenti scolastici, scegliete quelli che sono più adatti per la vostra scuola. Se volete fare una scuola, una didattica più innovativa, potete scegliere anche questi. Hanno scelto i dirigenti scolastici sulla base delle esigenze delle singole scuole, del modo in cui intendevano fare didattica. Tiziana, abbiamo il tassativo.